Siamo ormai nell'estate e Baltour affronta probabilmente il mese più caldo dell'anno dal punto di vista dei viaggi. Quali sono intanto le mete che Baltour copre e quelle predilette dai viaggiatori? Dunque, la nostra azienda copre praticamente tutta Italia perché abbiamo più di 19 regioni coperte tutti i giorni e a livello europeo un po' tutta Europa, abbiamo 23 paesi coperti, quindi Francia, Spagna, Portogallo e un po' tutta l'Europa. Ovviamente le mete predilette per l'estate sono quelle più turistiche, sicuramente per gli stranieri l'Italia classica, quindi Roma, Milano, Venezia, Firenze, l'Italia classica e anche molto interessante sono i viaggi per l'estero, quindi Parigi, Amsterdam, un po' tutta la Francia in generale. Che dire, insomma abbiamo sicuramente tante mete in quest'ultimo periodo, poi abbiamo rinnovato anche il parco autobus e diminuendo i posti e mettendo una sorta di chasse long, quindi sono proprio delle poltrone molto comode, reclinabili e questo sicuramente inciderà e sta incidendo in maniera particolare per la scelta del nostro vettore che in qualche modo si continua ad attestare come un vettore molto popolare, insomma scelto da tante persone. Avete notato un calo di richieste in alcuni paesi europei dopo i noti fatti che purtroppo hanno riguardato le più grandi capitali europee? Sì, sicuramente c'è stata una contrazione che purtroppo continua ad essere costante perché questi atti terroristici effettivamente continuano da tempo ad esserci e ripetutamente continuiamo a sentire che avvengono quasi ogni mese, quindi sicuramente sì, c'è stata una piccola contrazione soprattutto nel mercato europeo. L'Italia invece continua ad andare, si attestano numeri interessanti e siamo anzi in salita anche a due cifre, soprattutto su alcune città. Però sì, l'Europa purtroppo soffre di questo gap, di questo problema terroristico.